Sono in arrivo novità interessanti per quanto riguarda il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale. L'Inps è al lavoro per ricepire i cambiamenti presenti nella nuova legge di bilancio. Nello specifico, la legge di bilancio 2023 introduce novità importanti per il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. In particolare, dal 1 gennaio 2023 è previsto l'aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile dall'utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro. L'accesso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori. Per le imprese agricole, inoltre, sono introdotte forme semplificate d'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo indeterminato. Il nuovo regime specifico prevede, tra l'altro, l'inoltro della comunicazione obbligatoria di assunzione al competente centro per l'impiego. L'Inps, infine, sta lavorando per adeguare i sistemi informativi alle novità normative, con progressivi aggiornamenti a decorre dal 1 gennaio 2023 e per completare le modifiche della sezione dedicate alle imprese del turismo entro questo mese, ha annunciato il direttore generale dell'Inps, Vincenzo Caridi.